Da su, in ogni sua canzone, atta una profonda ricerca delle linee vocali e dei testi delle canzoni. Partendo da quest'ultimi, il cantante usa una specie di neolinguismo tutto suo, pieno di inglesismi e parole con accenti spostati, pieno di parole spezzate per formare rime nuove andando contro le leggi grammaticali. Forse storiano nel parlato, o musicalmente sono veramente funzionali. Il secondo aspetto è la ricerca del suono. Da su, spesso, da più importanza adesso che al testo, la prova è che i suoi testi non sono sempre compensibili se non letti, e crea delle linee vocali uniche. Il giovane artista sotto questo punto di vista è l'originalità in persona, poiché sfugge spesso alle regole del mainstream e grazie a queste melodie particolari riesce a portare l'orecchio altrove, in luoghi inattesi. Inoltre, l'artista è molto volubile riguardo ai generi, poiché può passare tranquillamente da canzoni jazz a quelle trap, da quelle pop a quelle dance e rock. Insomma, si è plasmato un mondo tutto suo che prima d'ora non si era mai sentito. Credo che sia un'ottima fonte di ispirazione per chi vuole andare contro la massa e seguire un percorso tutto suo. Per chi vuole andare contro la massa e seguire un'ottima fonte di un'ottima fonte. Grazie.